buongiorno ciao io sono luca piacere ciao bianca che stavi facendo ti ho disturbata no ero in pausa però ho lasciato il telefono con me quindi questo è il cane pardo cane cane pardo è un esemplare che viene dalla russia alane proprio l'animale noi non vendiamo più animali al momento solo prodotti è un cane in estinzione ma dai però adesso ora le vendite di cani e cuccioli di solito gli allevamenti non so se hai trovato qualcosa però in negozio no non l'ha mai visto mai vista cane pardo è un incrocio tra un pitbull e un leopardo è più un felino urca no non l'ho mai visto è interessante però prova a scrivere magari su internet allevamento cane pardo magari ti esce qualcosa si è in estinzione quindi per questo non l'hai mai vista ah allora è un po raro se è in estinzione è più raro che che ci sia perché ci sono pochi esemplari nel mondo deve essere proprio bello sì sì ciao ragazzi fate bravi certo ciao pronto pronto allora scappati di casa chi sei io sono luca piacere che luca sei che stavi facendo ti ho disturbato io non ti conosco chi sei luca chi chi sono meglio della figa sono io vai a fa culo smettila di fare la figa di legno smettila ma chi sei tu sei la brava luca chi io non ti conosco non ne conosco di luca io mettili seduta è perché mi devo mettere seduta cosa mi devi dire e devi fare la brava devi fare dimmi con chi sei sposato non si chiama con chi oh ma sei proprio un canne pardo ma ascolta guarda che a me non mi prende in giro io c'ho 82 anni non mi devi prende in giro tu coglione che cazzo sei sei una figa di legno a papà ma va a fa culo si pronto ciao ciao canne pardo usa un canne pardo non l'ha mai visto direi proprio di no e il canne pardo è un incrocio tra un pitbull e un leopardo ma non mi interessa neanche cane pardo è un incrocio tra un pitbull e un leopardo è più un felino e ho capito ma noi ce l'abbiamo noi sono cavalier king quindi non so come accontentarti no è un cane pardo un esemplare di cane pardo noi alleghiamo solo cavalier king non so come accontentarti è un esemplare che viene dalla russia contato agli elevatori russi questo viene preso in russia ho capito contato agli elevatori russi io ho voluto un cavalier king in bielorussia e me lo sono fatto mandare quindi puoi fare anche te così contatti in elevatore russo e te lo fai spedire che caratteraggio che hai avrò caratteraggio però scusa siamo in allevamento di cavalier king chiedendo una cosa impossibile quindi cioè ora sai ho 45 anni non per farmi prendere in giro dai piastati sconosciuti che chiamano con numero sconosciuto ok avete dovuto fare la mamma dovuto fare le Paolo smettila di fare la figa di legno Ma se proprio un gagne Paolo Ma ne Paolo anche la di fare la figa di legno smettila